Ciao amici di Italia Top Games, se ancora non l'avete visto voi in PES 2016 ve lo mostriamo noi in questo rapido filmato Arrivano le leggende in My Club e come potete vedere dal video l'immagine è piuttosto eloquente, sembra proprio di Vincodino, Roberto Baggio Non sappiamo quando arriveranno le leggende ma arriveranno, prossimamente potrebbe essere anche domani, giovedì 26 novembre o successivamente Comunque oramai è ufficiale, arrivano effettivamente le leggende in My Club Rimanete qui sul nostro canale youtube di Italia Top Games o sul nostro sito www.italiatopgames.it per tutti gli aggiornamenti del caso